Gian Piero e Carlotta, protagonisti del film Amosia, giovanissimi e bravissimi nel film, mi raccontate come vi siete preparati? Avete cercato insieme un'armonia oppure vi siete conosciuti direttamente sul set? Cominci tu? Ci siamo conosciuti prima ai provini, abbiamo fatto un paio di provini insieme in cui abbiamo cominciato a conoscerci e poi c'è stato un mese di prove a tavolino con Marescotti in cui abbiamo provato tutto il copione per ottimizzare i tempi e poi sul set ormai già ci conoscevamo da un paio di mesi quindi è stato un po' questo. Sì, abbiamo costruito una conoscenza, ci siamo conosciuti, abbiamo costruito il rapporto, chiaramente a volte avviene anche di costruirlo direttamente sul set ma abbiamo avuto la fortuna di poterlo approfondire di più anche prima, credo che questo abbia aiutato molto poi il risultato. Carlotta hai fatto degli studi sulla musia, cioè interpretare un personaggio che appunto ha un tipo di malattia molto particolare, anche solo capire cosa si prova a sentire i suoni in quel modo è difficile, hai approfondito questo aspetto, ti sei fatta aiutare? Sì, sì, in realtà non solo io, anche Giampiero, anche Marescotti abbiamo ricercato e studiato, abbiamo trovato una persona che in realtà stava con una persona che soffriva di amusia, quindi abbiamo timidamente chiamato e disturbato e gli abbiamo chiesto che cosa si provasse, che cosa succedeva e quindi c'è stato molto molto di aiuto quello e poi come dicevo prima, sì parliamo di questa malattia ma ci siamo più di tutto soffermati sulla solitudine, sul senso di spesamento, sull'amore, cioè sono tante cose, forse per Marescotti non lo è ma un po' per me è stato un capo espiratorio per raccontare altre cose, no? Come succede nei film, si creano delle grandi storie, delle grandi perbole per poi raccontare la vita. Gian Piero, il tuo personaggio vive in un mondo senza tempo, come dicevano prima in conferenza stampa, senza cellulari, senza tv, come te lo sei visto? Come lo vedi appunto il tuo personaggio? Ti piace? Raccontamelo un po'. Guarda, trovo un po' di difficoltà a percepirlo dall'esterno, cioè a caratterizzarlo, era un personaggio che doveva semplicemente stare in ascolto con il personaggio di Carlotta, con la regia e la fotografia, semplicemente, non credo sia un personaggio che può avere una facile definizione. Sicuramente il fatto di essere in un luogo senza tempo mi ha portato ad avere, a percepire un'attitudine di torpore onirica, non era ben chiaro. Ecco, forse l'unica sensazione che mi porto di luce è la poca chiarezza di Lucio, ecco, e l'ascolto verso l'altro personaggio, basta, insomma, sono sempre molto confuso quando mi si chiede di parlare lucidamente di un percorso su Lucio, ancora di più, luce da me. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per l'uscita del film. Grazie a tutti.